Ci sono lavori che vanno al di là della spettacolarizzazione dei luoghi e delle persone. Spettacolarizzare infatti vuol dire degradare il tutto a evento, a occasioni irripetibili, quindi passeggere e foriera di emozioni che vengono bruciate in un attimo. Invece venerdì scorso a Praia Mare, presso il Palazzo delle Esposizioni, è andata in scena un'operazione diversa di superamento dello spettacolo in favore di una testimonianza sempre verde. Stiamo parlando di Genti di Calabria, lavoro che comprende un atlante fotografico umano con 180 foto di volti calabresi scattate da Pino Bertelli e il docufilm I Colori del Cielo realizzato dal regista Francesco Mazza. Genti di Calabria è un viaggio emozionale che mette al centro le persone e non le bellezze paesaggistiche. È un girovagare tra le emozioni di chi abita questa terra e la riscoperta di sentimenti profondi che non si possono racchiudere in poche righe. Francesco Mazza ha seguito Pino Bertelli in questo viaggio durato più di due anni, affrontato senza finanziamenti pubblici. Un viaggio che ha toccato anche Praia Mare. È un lavoro pasoliniano in cui la materia è l'uomo e la struttura portante è l'emozione. L'intento dei due autori è stato quello di raccogliere le sensazioni che i calabresi hanno donato spontaneamente. Ebbene, Genti di Calabria sta girando il mondo e sta dando i suoi frutti, riscattando questa terra più di ogni altra brochure. Ma da dove nasce quest'opera? Bisognerebbe scavare nel passato di Mazza e Bertelli. Soprattutto Bertelli è stato un esponente dell'elettrismo e del situazionismo, uno dei pochi italiani ad aver conosciuto The Board, l'autore della Società dello Spettacolo. Chi conosce queste avanguardie sa anche quale ventata di freschezza apportarono al panorama artistico contemporaneo, visto che non incisero più sulla spettacolarizzazione, ma sull'emozione e sulla testimonianza. Tutti sanno quanto è bella la Calabria, ma pochi immaginano quanto sia bello il suo popolo, sul quale pendono troppi pregiudizi. Attraverso la testimonianza, invece, c'è il superamento del pregiudizio e di conseguenza ognuno può riappropriarsi di un patrimonio sconosciuto che appartiene al mondo. In questo caso, la Calabria. Grazie a tutti.